Sono stati trasferiti al Cara d'Isola Capo Rizzuto, dove ci sono già 700 persone, tra cui un centenario di minori non accompagnati. I 200 migranti sono accorsi in diversi interventi effettuati a largo delle coste libiche e sbarcati a Crudone. I migranti sono arrivati sabato scorso a bordo della nave Humanity One. Tra le persone sbarcate sulla costa Ionica ci sono anche 20 donne e 2 neonati. La nave della ONG Teresca SOS Humanity ha compiuto l'ultimo salvataggio mentre navigava già verso Crudone, rispondendo alla richiesta di aiuto lanciata tramite Alan Form da 24 persone che si trovavano su una barca che gallaggiava a fatica, in un tratto di mare compreso tra Libia e Malta. Qualche ora prima aveva soccorso e salvato oltre 40 persone che erano su una barca in legno. I migranti recuperati hanno raccontato al personale di SOS Humanity di violenze da parte di milicie libiche che le hanno attaccate con armi poco prima della loro partenza. I soccorsi sono avvenuti in condizioni difficili con mare agitato a temperatura molto rigida. La Humanity One, che è una delle navi di soccorso più grande e meglio equipaggiate del Mediterraneo e dispone di un'area di accoglienza per donne e bambini e di un'infermeria, sarebbe dovuta arrivare al porto di Livorno, ma le cattive condizioni in meteo hanno fatto modificare alle autorità italiane il porto di destinazione ed è stato scelto quello di Crudone. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura ed eseguite dal personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura. La Crocerossa Italiana ha provveduto a dare assistenza ai migranti sbarcati. È stato attivato il servizio di ricongiungimento del Comitato Nazionale Crocerossa Italiana perché alcuni migranti erano su altre imbarcazioni delle ONG.